vedi una tarma una tarma ha fatto un buco nel mio calzino allora io svelto come un pesce svelto il professore edicola dei tre scalini arrivata preso e ha dato un punto quindi lui ha i calzettini con i bottoni ha messo un rivetto è un rivetto questo il professore ha aggiustato i calzini con un rivetto è il rivetto stasera per aggiuntare la gronda la gronda ma che gronda no vabbè se questo è il delirio totale al fontaniere il fontaniere traduco il biondo il biondo al feb al lanternaio faceva il lanternaio andeva a mettere insieme la gronda insieme con i calzini con il motore questo è da oscar questa è da oscar me ne sono rimasti adesso se ne vuoi anche te nei calzini no vabbè a me certo il professore questo è uno speciale rivetto speciale rivetto no vabbè no vabbè